...e potrebbe non vederlo più. E non ci riguarda. Questo aspetto, se Dio vuole, non ci riguarda. Usciamo? Non dico a te, bambù. Sarà un anno che non andiamo a cera fuori. Ah, lo sai che non si può. Ma come non si può? Si può, si può. Andiamo, preparati. Grazie.